Sanità il punto sulla campagna vaccinale, la priorità è accelerare sui vaccini agli anziani over 80, prima dose a tutti, entro il 25 aprile. IRPET via libera il bilancio preventivo economico 2021, approvato a maggioranza dal Consiglio regionale. Il Consiglio regionale il punto sulla campagna vaccinale. La regione toscana ha intenzione di imprimere una forte accelerazione alla vaccinazione degli over 80, tale da arrivare ad aver somministrato a tutti la prima dose entro il 25 aprile e chiudere con il richiamo entro metà maggio. In questo momento è un intenso susseguirsi di passaggi per che i vaccini vengano somministrati, soprattutto agli anziani over 80, con loro ci stiamo impegnando a fondo. Devo dire che anche rispetto a quello che è stato detto nelle settimane passate, la percentuale di somministrazione è più alta, abbiamo accertato che vi erano degli errori nelle percentuali che venivano date, non 90.000 vaccini agli over 80 come sono stati spesso scritti, ma in realtà ad esempio 106.000, perché non sono stati calcolati i circa 11-12.000 vaccini che noi abbiamo somministrato alle RSA, dove siamo stati i primi in Italia a completare il ciclo, e non sono stati considerati circa 4-5.000 over 80 che magari erano personale sanitario, iscritti agli ordini anche se ormai in quescenza, o altre categorie che sono entrati nelle prime somministrazioni di vaccini. Quindi parlare di 90.000 o parlare di 106.000 sembra nulla, ma significa sostanzialmente il 5% con cui la Toscana supera in quella graduatoria che spesso è stata mostrata almeno due o tre regioni. Noi siamo di fronte alla sfida delle sfide, quella di vaccinare tutta la popolazione, ma se devo dire, dalle tante domande che ricevo, la questione più stringente sono due, perché avete vaccinato gli avvocati e perché siamo così in ritardo sugli over 80. E molte volte le due cose vengono legate, in realtà non sono, non devono essere legate, perché gli avvocati, così come il personale scolastico, delle forze dell'ordine, venivano e vengono vaccinati col vaccino AstraZeneca. Mentre per gli over 80 è possibile utilizzare solo il vaccino Pfizer. Noi oggi abbiamo somministrato già più di 428.000 dosi di vaccino Pfizer. Sono circa, ne abbiamo utilizzato, l'88% delle dosi ricevute, 234.000 agli operatori sanitari, circa 31.000 agli ospiti delle RSA e più di 100.000 agli over 80. Cosa è successo? È successo che noi abbiamo ricevuto molte meno dosi di Pfizer di quelle che immaginavamo. E allora abbiamo dovuto fare una scelta. La scelta era somministrarlo agli operatori sanitari e concludere la seconda fase di vaccinazione oppure accelerare sulla vaccinazione degli over 80. Abbiamo scelto di completare la vaccinazione del personale sanitario di chi è in prima linea. È evidente che ora bisogna accelerare sugli over 80, ne sentiamo tutta la responsabilità. Piano Vaccini sta procedendo ovviamente con il grosso limite della quantità di vaccini che arrivano. La macchina delle vaccinazioni, cioè la capacità di erogare i vaccini, c'è e su questo infatti la Regione ha dei risultati positivi. Mentre non sta andando bene, siamo in ritardo sulla vaccinazione degli over 80. Questo però per tante motivazioni, una delle quali sicuramente perché è stata organizzata la macchina della vaccinazione attraverso i medici di medicina generale che ha impiegato un po' più tempo e questo ritardo nelle prossime settimane verrà recuperato. In questa settimana sono in distribuzione 46.000 vaccini, 70.000 vaccini la prossima settimana. Insomma, intorno a Pasqua arriveremo a oltre 200.000 anziani over 80 vaccinati su 320.000. Poi ci sono quelli che sono già stati vaccinati perché erano in RSA. Quindi diciamo che intorno a Pasqua si dovrebbe tornare ad un livello di vaccinazione degli over 80 importante. Per quanto mi riguarda, la mia presa di posizione serve cambiare metodo, serve migliorare. La Toscana non può essere l'ultima regione in Italia come il numero di persone vaccinate over 80. sono le persone che hanno più di 80 anni, le prime vittime del Covid, sono le persone più fragili. I fragili fra i fragili ho definito. E queste vanno aiutate, vanno vaccinate velocemente entro Pasqua. Abbiamo chiesto di fare una metodologia più rapida, abbiamo chiesto l'impiego della protezione civile, abbiamo chiesto un'azione tempestiva, abbiamo chiesto di vaccinare volontari del volontariato, donne e uomini che dedicano loro tempo al volontariato, utilizzare la protezione civile, intanto vaccinare rapidamente e fare in modo che ovviamente anche le aziende sanitarie possano fare un'azione attiva. Una persona di 80 anni molte volte si può anche spostare. I medici di medicina generale devono vaccinare le persone più fragili, quelli che non si possono muovere. Le persone che hanno maggiore difficoltà devono avere però i vaccini a loro volta. Allo stesso tempo questa deve essere la priorità delle priorità. Non c'è più tempo da attendere. Abbiamo formalizzato le nostre richieste e aspettiamo nelle prossime ore un cambio totale, radicale, dell'approccio a questo metodo di vaccinazione. Intanto non abbiamo ancora risolto le vaccinazioni sulle persone anziane sopra gli 80 anni. Sappiamo che in Toscana purtroppo siamo ancora molto indietro. La sensazione che abbiamo, questo per tutti quanti, è che le tre ASL si stiano muovendo in maniera totalmente diversa. Quindi come se non ci fosse una linea unica regionale, ma ogni ASL si stia muovendo per conto proprio. E questo ovviamente porta anche disparità, perché quando ci troviamo a confrontarci in aula, ma anche nelle commissioni, piuttosto che con l'assessore, ci viene detto che nell'ASL centro si fa così, nell'ASL nord-ovest si fa diversamente. E io credo che questo non sia il metodo per lavorare. Ci vuole, oltre ad avere gli spazi e l'organizzazione adeguata, che ancora manca, ci vuole anche una programmazione che sia efficiente ed efficace. Ricordo ovviamente che chi vuole vaccinarsi deve poterlo fare intanto il prima possibile. Questo dipenderà anche dalla mole di vaccini che arriverà, e a quanto abbiamo capito, arriverà presto dal governo. Ma la campagna vaccinale deve essere ben organizzata, altrimenti avere vaccini senza avere l'organizzazione adatta per poterli fare ai nostri cittadini diventa di difficile risoluzione. L'ultima volta che abbiamo sentito l'assessore Bezzini in tema di vaccini, ci ha detto che eravamo molto bravi, che eravamo i primi, che eravamo i migliori, il che sinceramente conta poco. In realtà scopriamo purtroppo, ahimè, e non vorremmo averlo appreso, che la Toscana invece non è per niente la prima, ma è addirittura l'ultima nella somministrazione sia dei vaccini rispetto agli over 80, sia rispetto al numero di persone vaccinate, rispetto all'intera popolazione. Però nel frattempo si è vaccinato scanzi. Ecco, allora noi riteniamo che su questo l'assessore Bezzini probabilmente qualcosa da dirci ce l'avrebbe avuto, ci sarebbe piaciuto sentirlo, in realtà il tema vaccini è fuori dal Consiglio regionale di oggi e di domani. Quindi siamo molto preoccupati, vorremmo avere delle risposte e sinceramente risventolare la bandiera dei primi non ci interessa perché non serve alle persone, specialmente quando purtroppo si scopre di essere ultimi. Noi siamo molto allibiti da quello che sta succedendo in Regione Toscana. Tutti sanno che la Regione Toscana è maglia nera per quanto riguarda la vaccinazione degli over 80. Addirittura i giornali fanno questa fotografia penultima Toscana. È inaccettabile che in Toscana gli over 80 non siano ancora tutti vaccinati. Ormai sono mesi che sentiamo questa tiritera di li vaccineremo, saranno vaccinati, occorre farlo e occorre farlo subito. Ma non soltanto gli over 80, occorre vaccinare tutti. Ecco perché oggi abbiamo portato in Consiglio regionale una proposta semplice che prevede alcune cose da fare immediatamente. Vaccinazione 24 ore su 24. È assolutamente sconcertante che la vaccinazione si fermi alle ore 18. In paesi normali dove si vuole combattere il virus si vaccina 24 ore su 24. Lo si fa ovunque, lo si fa anche supportati dall'esercito. Il secondo, gli over 80 devono essere non solo vaccinati per primi, perché sono insieme e super fragili malati oncologici, malati cronici, ma sono quelli che hanno l'indice di mortalità 5 volte superiore a tutti gli altri. E lo dobbiamo fare anche a casa. Ecco la vera novità. Over 80 vaccinati anche a casa. Poi dobbiamo fare lo scudo penale. Per chi va a vaccinare. Avete visto quello che è successo? Assistiamo a che un volontario, magari un medico in pensione, un infermiere, un volontario, somministra una dose vaccinale, purtroppo questa dose vaccinale ha una reazione, e il magistrato manda un avviso di garanzia al medico, all'infermiere o al volontario. Questo in un momento difficile come questo è assolutamente inaccettabile. La Fondazione Gimbe parla chiaro con i suoi numeri. A fronte di una media del 14,7% dei vaccinati over 80 in Italia, la regione toscana è a 5,3%. Questi sono dati di ieri. Quindi la narrazione che sta andando tutto bene nelle vaccinazioni che stiamo procedendo spediti non è così. Riguardo le vaccinazioni complessive, siamo circa a metà classifica in Italia. La nostra proposta di commissione di inchiesta specifica sui vaccini, come l'avevamo proposta noi in Movimento 5 Stelle, era nell'ottica di cercare di creare un tavolo comune tra giunta, organismi della sanità, medici e forze politiche del Consiglio regionale per monitorare e cercare di implementare insieme un metodo efficace. Ci dispiace che sia stata rifiutata. Io comunque insisto a rilanciarla perché forse è uno strumento che può aiutare tutti. Sicuramente la Toscana non sta facendo bene e non solo per di avere 80. Con un valore della produzione di circa 3 milioni e 300 mila euro, un costo della produzione di circa 3 milioni e 200 mila euro ed un risultato in pareggio per gli importi di IRAP ed Ires, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio preventivo 2021 dell'IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana. L'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana svolge da sempre un ruolo importante e prezioso di collaborazione sia con il Consiglio che con la giunta regionale. Questo è stato l'ultimo bilancio di previsione presentato dal direttore uscente, il dottor Casini Benvenuti, nel quale peraltro viene attestato il programma di attività per l'annualità 2021 e per il prossimo triennio. Si sa che le risorse principali di cui si avvale IRPET vengono dal contributo ordinario della Regione Toscana, ma anche da una importante attività che IRPET pone in essere rispetto ai fondi europei in stretta collaborazione con la Regione Toscana. Le spese principalmente sono quelle relative proprio all'attività di ricerca e ai servizi collegati all'attività di ricerca, nonché quelle relative al personale. Il conto economico si è quindi presentato pari a 3 milioni e 300 mila euro circa, proprio derivante sia dalle spese di gestione sia dai ricavi, con una chiusura che è sostanzialmente in pareggio, in sintonia con quanto disposto dalla delibera della giunta regionale del 2019. Il Consiglio regionale ha espresso rispetto al bilancio di previsione di IRPET un parere favorevole a larghissima maggioranza, trovando anche la convergenza di molte delle forze di opposizione. Il istituto regionale sta facendo un lavoro importante, sicuramente lo dovrà fare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi dovrà soprattutto calcolare, studiare e comprendere gli effetti della pandemia sulla economia della Toscana e vedere zona per zona qual è stato l'impatto economico che si è tramutato ovviamente in ambito locale e quindi nei prossimi anni ridisegneremo una Toscana nuova. Deve essere uno studio importante perché deve essere propedeutico al nostro nuovo piano di regionale di sviluppo che dovrà collegarsi con i finanziamenti comunitari e con i finanziamenti dei recovery plan. Quindi una Toscana che sicuramente uscirà diversa da come è entrata in questa pandemia, con delle situazioni che avranno in alcuni casi peggiorato il proprio status economico più di altri e su questo dovremo costruire i prossimi piani di programmazione regionale. Abbiamo votato a favore perché se qualcosa ha sbagliato IRPET è soprattutto per colpa della Giunta regionale. Per esempio la Giunta regionale ha presentato tardi il programma di attività e quindi il bilancio è stato concluso. Diciamo purtroppo non nei tempi, però bisogna vedere nei numeri e oggettivamente siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che viene fatto e di un bilancio dove le voci di entrata di spesa ormai sono consolidate. Per quanto riguarda l'entrata è il contributo della Regione, per quanto riguarda l'uscita è il costo del personale che però occorre mettere in evidenza da 37 unità e passa da 35. Quindi è vero che c'è stato un leggero aumento, ma non dovuto a IRPET ancora una volta, quanto piuttosto al contratto collettivo di lavoro nazionale, a nuova contrattazione. Quello che mi ha messo in evidenza è proprio la visione di IRPET che a noi rispetto a quella della Giunta veramente si trova alquanto d'accordo con la necessità di ricostruire la Toscana. Il bilancio di IRPET abbiamo votato contro, perché c'erano molte cose che non ci tornavano. A partire dal bilancio che è stato presentato in ritardo, siamo poi passati allo sforamento del tetto sul personale, quindi sui soldi che devono essere dati al personale, e allo sforamento sul tetto previsto in bilancio per gli incarichi esterni e le consulenze. È inaccettabile che un ente partecipato dalla Regione Toscana porti un bilancio in questo modo. Oltretutto IRPET vive esclusivamente di finanziamento pubblico, oggi siamo a un cambio di passo. Verrà nominato a breve il nuovo direttore, auspichiamo che il nuovo direttore venga scelto per competenza, per professionalità e per merito, non certo per appartenenza, per quell'appartenenza partitica contraddistinta dal Partito Democratico che sceglie le persone che hanno le tessere. Questo sistema di gestione a noi non piace. IRPET è sicuramente un organismo fondamentale perché ci aiuta ad approfondire anche degli aspetti molto tecnici del lavoro che facciamo. Dal punto di vista del bilancio abbiamo delle perplessità, per esempio il grande numero di consulenze che serve. Io credo che queste consulenze andrebbero internalizzate per avere anche modo di utilizzarle sotto i vari fronti di cui la Regione Toscana avrà bisogno nei prossimi anni. Si parla del piano resilienza che è immediato, ma io parlo anche di sette anni ad esempio di Unione Europea, di nuovi progetti che si portano avanti e sicuramente di una resilienza che deve essere riscritta per la Regione Toscana. IRPET può servire, ma sicuramente le spese fatte ora ci fanno capire che forse non è impostata nel livello ottimale. Grazie.